Grazie a tutti Buongiorno Naturalmente contenti di ricevere anche i vostri pareri Telefonate al numero 081 197 51512 Dunque Angelo partiamo insomma dal campionato Ritorna il campionato Napoli che non va oltre il pareggio E partiamo anche per quanto riguarda il Napoli Da alcuni dati Perché nelle ultime 10 partite Il Napoli riesce a vincere solamente due volte Se pensiamo che in realtà ad inizio campionato Si pensava ad una squadra azzurra Che mirasse direttamente allo scudetto In realtà abbiamo raccolto pochissima Molta, moltissima delusione Bisogna dirlo immediatamente Senza timori reverenziali Nei confronti di Carlo Ancelotti Grandissimo allenatore Va criticato in questo momento Perché i risultati non stanno arrivando È molto semplice È un mese che la squadra non c'è Solo pareggi anche una sconfitta E con il Milan Anche se qualche leggerissimo segnale di miglioramento Negli ultimi 15-20 minuti si sono visti La squadra non c'è stata Ora bisognerà vedere dopo domani con Liverpool Se una partita di livello internazionale Il Napoli Posso scuoterlo un attimo Anche se però devo dire che Insomma non so se Raffaele è d'accordo Non si è trattato di una questione questa volta psicologica Perché il Napoli è sceso in campo Con tutta la grinta a sua disposizione Però è mancato proprio l'aspetto Probabilmente tecnico a questa squadra Allora io Ci tengo a dire una cosa Un pareggio a Milano Nell'economia di un campionato Contro il Milan Ci può stare Il Napoli ha giocato anche decisamente Forse un po' Permettetemi la volgarità Un po' più cazzuto Rispetto alle precedenti volte E' mancato il gol E' mancata forse ancora un'organizzazione di gioco La conclusione La conclusione Il gol del Napoli Che finalmente è un palo Che non è stato un palo Cioè quel fortuito gol Nato così Ha scosso la squadra Perché all'inizio erano un po' timorosi Nell'ultimi 20 minuti Il Milan ha avuto paura di perdere Il Napoli con il 4-3-3 E non con il 4-4-2 Ma con il 4-3-3 Ha messo paura al Milan Io spero che Milano Possa essere il punto di partenza Dopo questo mese Orribilis di ottobre E intanto anche tante occasioni sprecate Per il Napoli Lo ricordiamo ancora C'è un telespettatore Peppe al telefono Buongiorno Buongiorno Io volevo fare una domanda Possiamo alzare l'audio Gentilmente Buondì Peppe Buongiorno Volevo sapere se Secondo gli ospiti Non è il caso di esonerare Ancelotti Grazie Forse Angelo ha già risposto Tra le righe prima Beh io Sono dell'idea Che bisogna proseguire Nel percorso con Ancelotti Però certamente Non è il momento di esonerarlo Ma Un prossimo mese Sicuramente è determinante Bisognerà In qualche modo Trovare una via d'uscita Da una situazione Che è ancora tutta da giocare Perché C'è la possibilità Di arrivare in Champions Di superare il turno Di vincere la Coppa Italia Che deve essere Il nostro obiettivo Però inevitabilmente Se fra un mese A gennaio La situazione sarà ancora questa Bisognerà trarne le conseguenze Raffaele Bisogna vedere anche Quale sarà Poi se a gennaio Arriviamo con un distacco Dal quarto posto Che supera gli otto punti Allora a quel punto Penso che De Laurenti Ci penserà Cioè tanto ecco Bisognerebbe anche discutere Insomma su quello Che è l'equilibrio Tra la società E la squadra Intanto noi abbiamo In collegamento Gianluca ha imparato Dal caffè Stavano Ferdinando Stiamo parlando Della squadra Si dice in realtà Che nonostante tutto La squadra abbia Dei miglioramenti Per quanto riguarda La prestazione E' così anche Per i tuoi tifosi Gianluca a te Sì buongiorno Mario Buongiorno Claudio Siamo qui come sempre In diretta Dal gran caffè Stavano Ferdinando Per parlare di Napoli In compagnia Di tifosi azzurri Oggi siamo in compagnia Di Peppe e Pietro A cui chiederei subito Se sabato A prescindere del risultato C'è stato un passo in avanti Sul piano della prestazione Io penso proprio Proprio di nuovo Perché in altri tempi Il Visto diciamo La consistenza Del Minali In Napoli Sicuramente Avrebbe fatto risultato Vedo ancora insomma Problemi psicologici Secondo me Perché non riescono A trovare Una quadra Ma poi In Napoli Senza gioco Diciamo Veramente Insomma E' una pena Per noi che siamo No difusi Ma amati Di Napoli E' veramente Una pena Vedere un Napoli Senza gioco Secondo me Secondo me Secondo me Diciamo che io Ho sempre avuto La preoccupazione Di rimpiangere Il vecchio Nostro allenatore Sarri Che aveva dato Un gioco Un carattere Ai giocatori Ecco Anch'io Ho notato Che non c'è Quel po' Di cattiveria Di voler fare Risultato A Milano Perché poi Il Milan Visto anche Sabato Non è una grande squadra Voglio dire E' una squadra Normalissima Il Napoli doveva E poteva far risultato Perfetto Io direi che per il momento Dalla Caffè San Ferdinando È tutto A voi studio Ma tra pochissimo Con Gianluca Dunque Naturalmente Questo pareggio Non ha convinto I tifosi Getta ecco Come diciamo prima Anccelotti nell'ombra Tra l'altro Anccelotti Potrebbe essere E lo chiedo a te Potrebbe questo essere Un deterrente Per la squadra azzurra Perché ha cambiato Nuovamente modulo Dall'inizio stagione E un valore aggiunto Come stiamo vedendo È un deterrente Angelo In questo momento Anccelotti Non sta facendo Quello che ci si aspettava Da un allenatore Di esperienza come lui Tranne forse In Champions Perché bisogna dire Che abbiamo 8 punti I stessi punti Del Barcellona Un punto in più Del Real Madrid Quindi tutto sommato In Europa Il Napoli Sta funzionando E vediamo Dopodomani Come giocherà La squadra Al di là del risultato Perché poi avremo Il Genk Come ultima opportunità In campionato Indubbiamente Il risultato È fallimentare Non si vede Il valore aggiunto E sicuramente Ancora un anno Di transizione Sono i senatori Quelli che vengono meno Caglion in primo luogo Ma anche Mertens Non stanno dando Quello che ci si aspetta E in questa squadra Non si può fare a meno Di Fabian Ruiz E di Milik Che però purtroppo Le loro condizioni fisiche Non li stanno aiutando Raffaele A te la risposta Al vostro telespettatore Che è qui in linea Maurizio Buongiorno 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 Volevo fare una domanda Su questo Napoli Ma visto che questo Napoli Ormai è in declino Questa stagione È andata malissimo Ma perché non lanciare Qualche giovane Provare a farlo emergere Dalla primavera Invece che puntare Sempre sui soliti Che non si vogliono Impegnare in campo Grazie Maurizio Beh è una domanda interessante Se ci fosse Qualche giovane interessante L'unico che il Napoli Ha tenuto dopo il ritiro È stato Gaetano Che però Non si è mai visto In questo momento Angelo prima diceva Ancelotti Sta cercando una quadra L'ha cercata sabato Mettendo Zielischi centrale E Elmas sulla fascia Quindi invertendoli Prova a giocare Con il 4-3-3 Quando c'è da attaccare Ma il problema È giustamente Che ci sono giocatori Che stanno giocando Con il freno a mano tirato Su tutti i Caglieon Come diceva anche Angelo Ma anche Insigne Lo stesso Non riescono a dare il massimo Lo stesso Coulibaly Cioè in difesa Non è cattivo Come l'anno scorso Forse è proprio questo Ancora In realtà C'è tanta delusione Perché Sarri È andato via Però forse Al di là della bravura Nulla togliendo Ad Ancelotti Forse c'era Un imprendimento Diverso Per la squadra Quando c'era Sarri Probabilmente Il ciclo È finito l'anno scorso La verità è questa Bisognava avere Forse più coraggio Nel cambiare Bisognava forse Rinunciare A quelli che sono stati I grandi artefici Del gioco Meraviglioso Di Sarri Ricordiamo Sarri Grande allenatore Grande gioco Però è finita Quella stagione Dobbiamo guardare avanti E così Dobbiamo guardare avanti Con i giocatori Perciò io facevo riferimento A Fabian Ruiz E Milik Che insieme a Meret A Di Lorenzo Saranno il futuro Di questo Napoli Non possiamo attaccarci ancora Ai vecchi Che hanno giocato La squadra è cambiata Quando riguardava quello che diceva Raffaele Sui giovani Per esempio Si poteva far giocare Luperto Sulla sinistra Dagli un po' di spazio in più Molti criticano Elmas Che è giovanissimo Ha solo 19 anni Ma bisogna dargli spazio Per Maturare esperienza Al centro deve giocare I sinischi Quando non c'è Fabian Ruiz Altrimenti i palloni Nessuno può controllarli Mi chiede il collegamento Gianluca Hai imparato con i suoi tifosi E dal Caffè San Ferdinando Gianluca a te Sì eccoci di nuovo In diretta dal Caffè San Ferdinando Come potete vedere Ci siamo spostati all'esterno Sono arrivati i caffè Sono arrivati anche nuovi ospiti Siamo infatti in compagnia di Giuseppe e Salvatore Con cui affronterei il discorso di Liverpool Perché secondo voi In caso di sconfitta C'è la possibilità che si cambi guida tecnica? Ne dubito Ne dubito Perché al momento attuale Non vedo all'orizzonte Un nuovo tecnico Secondo lei invece Io penso di nuovo Perché Carlo Ancelotti È un bello allenatore Comunque Napoli Penso che vincerà Forza Napoli È fiducioso È fiducioso Del Napoli E Carlo Ancelotti Mi piace come allenatore È un bello allenatore Un allenatore di esperienza Di cultura È in bocca al lupo Per i tifosi Perfetto Io direi che c'è fiducia Tra i tifosi azzurri E a questo punto Io prenderei un ottimo caffè Buona augurante Vi saluto E vi restituisco la linea E sia buona augurante Questo caffè Ti aspettiamo Grazie a Gianluca Hai imparato da Caffè San Ferdinando Un pubblico E i tifosi che si dividono Angelo Ancelotti In realtà è bravo Ma probabilmente Non ha i ragazzi E con una squadra ideale Chi invece dice diversamente Intanto però Sto fermandoci ancora Su quella che è stata La giocata di sabato Vediamo chi è stato per voi In grafica Il vostro migliore in campo Ecco Attendiamo subito la grafica Eccola qua C'è Allan per Raffaele E Lozano per Angelo Ecco Una buona prostazione No? Per il messicano Angelo Sì Io confido molto In questo ragazzo A me piace molto Come gioca Sta insistendo Ci sta mettendo cattiveria Anche sui social Lui sta dicendo Ho raggiunto il fondo Ma adesso è il momento Di risalire Bisogna puntare Su Lozano Bisogna puntare Su Lozano È una punta anomala È piccoletto Ma può giocare centrale Mi è molto dispiaciuto Però vedere Che quando lui ha segnato Pochi sono stati I compagni Che sono andati A festeggiarlo Questo è un cattivo segno Non mettiamo zizzani E a maggior ragione Non mettiamo zizzani No questo Raffaele Di commentare Non soltanto È migliore in campo Ma anche come suggerivano Dal caffè In compagnia di un buon caffè Si parlava anche La sfida fondamentale Che ci sarà A brevissimo La commenterei Perché è importante Anche capire Voglio essere Bastian contrario Io penso che il Napoli A Liverpool Arriverà Molto più impaurito Di come è sceso in campo Sabato sera Lo stadio del Liverpool È uno stadio caldo In questo momento Psicologico I giocatori del Napoli O scendono in campo Sapendo di dover fare L'impresa Ma non per loro Ma per il pubblico Che sicuramente Li seguirà a Liverpool O altrimenti Rischiamo l'imbarcata Quindi un po' di fiato L'imbarcata a Liverpool Significa Abbattere Quel poco di buono Che si è creato Di pace E serenità Consideriamo anche il fatto Che tra poco Ritornerà il presidente Sono partite Le lettere Con queste Presunte C'è anche un po' di tensione In più C'è un po' di tensione In più Bisognerà capire bene Come lo spogliatoio Accetterà Perché leggevo Stamattina Di possibili Class action Della squadra Con un avvocato Che li supporti Contro dell'Aurentis Prima parlavamo di questo Non è un buon segno Angelo Perché effettivamente Il malumore Si sente Si respira All'interno Dello spogliatoio Ma anche all'esterno Tra dell'Aurentis E Ancelotti Dell'Aurentis E la squadra Ancelotti Dell'Aurentis Insomma L'equilibrio E non torna L'equilibrio E' da ricostruire C'è da dire Due cose Quando si toccano Le tasche Dei calciatori I calciatori Impazziscono Questo è sempre Accaduto Lo stipendio Ancora non è stato erogato C'è però da dire Per abbassare Un po' il tono Della polemica Che in realtà Era l'ultimo giorno Per far partire Le lettere Al collegio arbitrale Quindi era quasi Un atto dovuto Da adesso in poi Potrà cominciare Quel lavoro Diciamo Di mediazione Scenderanno in campo Gli ambasciatori Per trovare Un punto di equilibrio In questa squadra Un punto di equilibrio Che deve essere raggiunto Soprattutto perché Non dimentichiamo Quell'episodio Di ammutinamento Insomma qualcosa Che ha un po' scollato Gli equilibri Sia col presidente Che con l'allenatore Qualcosa Insomma dobbiamo ricordarci Questa cosa Perché è stato Un segnale forte Diciamo che la squadra Forse Nelle singolarità Di qualcuno Ha capito Di aver fatto Un grosso errore La fotografia Di Coulibaly Che guarda Il Castel dell'Ovo La settimana scorsa Su Instagram Il gesto Di Mertens Che dopo Quell'allenamento Contrafischi E critiche Andò sotto I tifosi A cercare Un gesto D'affetto Forse Qualcuno Ha capito Di aver sbagliato Forse Non sono più Compatti Come prima Nello spogliatoio Forse c'è ancora Una frangia Di giocatori Che va contro Il presidente Un'altra Che vuole cercare Una mediazione E forse Questo è il momento Diciamo difficile Anche il fatto Che il presidente Oggi abbia dichiarato Tramite la società Che Malcui Non verrà multato Perché non era presente Quella sera Nello spogliatoio Può creare ancora Un'altra situazione Capire adesso Anche Malcui Come si porrà Se starà con la squadra Accetterà il fatto Di non essere multato Raffaele Forse questo potrebbe essere Anche una delle motivazioni Per cui poi il Napoli Sabato Non è riuscito E poi Non è riuscito Poi totalmente A vincere Nonostante la sua prostazione Fosse stata Alquanto positiva Discreta Intanto però Parconicio Vediamo anche Il vostro peggiore In campo Ecco vediamo Adesso la grafica Con l'aiuto Della nostra regista Giordata De Gregorio E poi commentiamo insieme Allora c'è Caiona Mi dispiace tanto Per Angelo E poi invece c'è Zilischi Per Raffaele Di cosa non sei contento Raffaele per Zilischi Ma non è nemmeno Tanto per la prestazione Perché comunque Zilischi Complice soltanto sul gol Poi ha giocato In una posizione Che non è sua Zilischi Non è un interdittore Di centrocampo Dovrebbe giocare Come Fabian Ma non ha i piedi di Fabian A quel punto Era meglio tenere Elmas centrale Zilischi sulla fascia E magari fargli giocare Come sta a giocare L'anno scorso La media dei voti Era molto più alta Adesso ci teniamo al massi E arriviamo a un 6,5 Insomma a 5 Non c'è dubbio Elegante Caglieon Non facciamo le fortune Dei giocatori del fantacalcio Sicuramente Caglieon L'ho voluto punire Con questo 5 Perché è forse Uno dei giocatori Che io preferisco In assoluto E quindi Ha maggiori responsabilità In questo momento Da un giocatore Di grande esperienza Di grandissima Intelligenza tattica Mi aspetto molto di più Invece si sta Nascondendo Da queste partite È molto demotivato Le sirene cinesi Sono fortissime Mi sa che a gennaio Potrebbe addirittura Andar via Che mi dispiace molto Però in questo momento Bisogna stimolare I giocatori di esperienza Come lui Come Alan Coulibaly Che hanno dato Dei segnali Di miglioramento Invece da Caglieon Da diverse partite Non si vede Il vecchio Caglieon La Cina nei suoi occhi Potrebbe essere però Un motivo ancora Peggiore Un interrente Ancora più grande Poi per la squadra azzurra Da gennaio in poi Se va via Caglieon Beh è già accaduto L'anno scorso Con Amsic Con il vecchio capitano Però bisogna avere Il coraggio Quello che dicevo prima Bisogna puntare Sui più giovani Sui ragazzi Contro il Liverpool Il rinnovamento ci vorrà Lozano potrebbe addirittura Giocare al posto di Caglieon In alcune situazioni Mi piace anche Lozano Però sono affezionatissima Caglieon Grazie Un auspicio anche Per la prossima sfida Vediamo un po' Tu non sei molto Io spero in un parigi Io penso che il Napoli Può pareggiare questa partita Addirittura potrebbe vincere Non si sa mai L'importante è che Metta l'anima Possiamo anche perdere Due a zero Ma l'importante è Mettere l'anima In questa partita Per dare un segnale Ai tifosi in primo luogo Al presidente in secondo luogo A tutta la città Grazie ad Angelo A Cirasa E Raffaele E Lucia Per essere stati con noi Forza Napoli Sempre Pubblicità